eccoci al quinto filmato di rayman 3 questa volta siamo in un altro livello siamo al deserto degli knaren questi knaren sono molto cattivi ma anche spregevoli se mi mettono le grinfie addosso siete morti eccoli stanno arrivando ora vediamo che succede gumsi re bambino degli knaren dice che riceverò questo potere bellissimo capite volete sapere che tipo di potere mi darà mi darà il potere di cambiare i luneri numerosi e io sono molto contento ora che c'ho questo nuovo potere però questo l'ho ricevuto dopo la battaglia e globox viene diventando verde